Riavicinare chi ha subito un torto a chi un torto invece l'ha creato, per cercare di attenuare i risvolti traumatici che il fatto in sé ha causato. Questa in sintesi è la giustizia riparativa nata negli anni 80 in Nord America ed ora disciplinata dalla riforma della giustizia penale dell'ex ministro Marta Cartabia. Per esempio se c'è stato un furto in casa e la vittima al di là del risarcimento sente che questa cosa lascia degli strascichi, può rivolgersi a un centro di giustizia riparativa o a un centro che accoglie le vittime e se vuole può incontrare se è disponibile l'autore di questo fatto e provare a dialogare a partire dal fatto accaduto per poter poi anche raccontare gli strascichi che questi fatti lasciano nelle persone. Non proprio una rivoluzione su reati, leggi e condanne ma certamente una visione diversa dalla giustizia punitiva e forse per questo è ancora difficile da comprendere fino in fondo. Per questo mercoledì prossimo il tema sarà discusso al Sant'Artemio tra i diversi organismi che compongono la nostra giustizia. Dal prefetto Angelo Sidoti ad Antonio Papalardo, dirigente del carcere minorile di Venezia, dal direttore dell'US2 Francesco Benazzi a Ottavio Casarano dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia. Una giornata per redigere un vero e proprio manifesto sulla giustizia riparativa. Il manifesto è una, chiamiamola lettera d'intenti, è una volontà di ritrovarsi su determinati valori per costruire una comunità in grado di affrontare le difficoltà e soprattutto le fratture che i reati o i conflitti causano a questa comunità.